Per me Prusa Slicer è il programma definitivo e il migliore slicer perché Cura è diventato inutilizzabile io sono tre anni che non utilizzo più in quanto sulla mia stampante che è autocostruita e comunque non è un Ultimaker, non è una Prusa è fatta da me Cura non funzionava cioè gli oggetti che tiravo fuori da Cura erano veramente inutilizzabili passando invece a Slicer magicamente tutto funzionava da lì ho smesso di utilizzare Cura Ciao e benvenuti a tutti, io sono Giorgio e oggi impareremo insieme ad utilizzare Prusa Slicer scoprendolo da cima a fondo ma partiamo dal principio che cos'è lo slicer? è quel software che permette di trasformare il tuo oggetto 3D in un linguaggio macchina che può essere letto e riconosciuto dalla stampante che contiene tutte le informazioni dei movimenti, delle temperature e di tutto quello che serve alla stampante per creare in questo caso Prusa Slicer è sviluppato e viene fornito dal team Prusa che ha basato questo programma sul vecchio progetto open source Slicer dico vecchio perché ormai è un programma obsoleto e non più aggiornato da anni e sicuramente chi stampa in 3D da molto tempo lo conosce e lo ha utilizzato tra l'altro era stato creato dal nostro connazionale appunto Alessandro Ranellucci ed è stato uno dei primi slicer a introdurre un'interfaccia grafica intuitiva e semplice arcandoci sulla pagina di Prusa Slicer possiamo scaricare l'installer per Windows che in questo caso però è alla versione stabile che è appunto la 2.2 io voglio scaricare invece l'ultima release che è la versione 2.3.0 che però non è ancora la versione stabile per fare questo dobbiamo recarci sul link GitHub in cui si trovano tutte le varie versioni rilasciate con il relativo changelog in questo caso scelgo di scaricare il pacchetto Prusa Slicer 2.3 per Windows 64 bit una volta scaricato il file compresso da GitHub estraiamo la cartella e qua dentro troviamo il programma successivamente la cartella può essere spostata dal desktop ad esempio nel disco locale C per poi creare un collegamento al desktop al primo accesso vi richiederà di configurare la vostra stampante in questo caso a me non è uscito niente possiamo recarci su configurazione configurazione guidata questa sarà la schermata che vi apparirà al primo accesso al programma possiamo scegliere una delle stampanti Prusa già preimpostate e qui arriva la prima chicca di questo programma ovvero integra già in un unico slicer sia la parte FDM sia la parte SLA però in questo momento sono supportate solo le stampanti Prusa andando sulla voce altri fornitori possiamo scegliere altri fornitori di stampanti che sono supportati da slicer troviamo Bibo, Trilab, Luzbot, Anycubic, Creality ad esempio selezionando la voce Creality ci apparirà qua sotto la voce Creality FFF clicchiamo e troveremo già le varie configurazioni di tutte le stampanti Creality in questo caso io voglio andare a configurare però una stampante personalizzata vado quindi su stampante personalizzata spunto la voce inserisce un profilo stampante personalizzato scrivo la mia stampante e questo sarà il nome del profilo della stampante firmware in questo caso posso scegliere quale firmware è presente sulla scheda della stampante io scelgo Marlin Forma Piano posso scegliere Rettangolare Circolare Personalizzato Rettangolare metto 300 in X 300 in Y posso anche scegliere un offset dell'origine questo va utilizzato in base a cose presenti nel vostro firmware però ad esempio ipotizzando che nel firmware l'origine del piano di stampa sia posto esattamente nella posizione 00 della nostra stampante andando a mettere un valore di 10 in X sposteremo il punto di home 10 mm a destra rispetto all'origine effettiva della stampante quindi in realtà stiamo limitando di 10 mm l'area della stampante in questo caso rimettiamo a 0 Prusa Slicer ci permette anche di caricare una texture personalizzata che andrà si andrà a posizionare appunto sul nostro piano e possiamo anche caricare un modello che sarà quello visualizzato come piano di stampa arriccandoci sulla voce successiva dobbiamo impostare qual è il diametro dell'ugello della nostra stampante in questo caso l'ascio è 0,4 se il vostro ugello è differente dovrete impostare un valore differente idem con patate per il diametro del filamento sono comunque tutti i valori che trovate dal produttore della vostra stampante per quanto riguarda le temperature possiamo impostare delle temperature e ci andrà a creare un profilo filamento ma lo vedremo in seguito possiamo quindi saltare e andare alla voce filamenti qua possiamo o non selezionare niente e quindi dovremo aggiungere manualmente profili per i nostri filamenti oppure possiamo utilizzare dei preset già presenti nel programma e appunto cliccando su questa voce troveremo vari preset per vari materiali tra cui in questo caso PLA, PTG, ABS dei vari produttori in questo caso io decido di non inserire niente in quanto creerò i miei profili da solo e clicco su completa questa era solo l'introduzione a Prusa Slicer se ti interessa veramente imparare tutte le funzioni più interessanti di questo programma ti consiglio di guardare i prossimi video arrivederci